Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti sul giornale della bellezza.it. Oggi siamo nuovamente a Milano per un evento molto speciale firmato Yves Rocher Italia. Yves Rocher è giunta alla sua quarta edizione del premio Terre des Femmes, ovvero un premio giovane e innovativo dedicato all'idea, all'originalità dell'imprenditoria femminile. Oggi in collegamento per noi, in anteprima assoluta, Alice Maggioni. Ciao Ela, oggi siamo al Parco Sempione di Milano per la premiazione della quarta edizione italiana di Terre des Femmes, invitati da Yves Rocher. La vittrice del premio è stata Demora Rezzetto con un progetto molto bello che era dedicato alle api, ecco le api sentinelle, il termometro della pietra. che bella storia, la tua, il tuo evento, ma che bella storia. Non ne ha fatto tutti voi ognuno incomincia nel suo piccolo, ma tu già sei diventata grande insomma con questo progetto, però è stata una cosa veramente speciale. Brava! Grazie!